Il 2022 sarà l'anno della svolta e ci lasceremo finalmente la pandemia alle spalle o saremo ancora costretti a convivere con l'emergenza sanitaria? La domanda è quella che si fanno tutti ma nessuno sa dare, almeno fino ad ora, una risposta certa. Quello che però è sicuro è che vaccini e cure nei prossimi mesi faranno importanti passi avanti. Il primario della rianimazione del Cardarelli, Romeo Flocco. Il 2022 sarà fantastico perché abbiamo nuovi vaccini, avremo l'adeguamento dei vaccini mRNA attuali anche sulle nuove varianti. Le nuove varianti, questo è un messaggio che non è ufficiale, non posso trasmetterlo in maniera ufficiale, però le nuove varianti potrebbero diventare meno aggressive. Già la variante Omicron, ci sono molti studi in merito, non è possibile fare delle affermazioni ufficiali. Già la variante Omicron sembra molto più contagiosa delle precedenti ma meno letale delle precedenti. Questa è solo un'impressione degli studiosi e degli scienziati che si occupano dell'argomento, però è importante avere questo spiraglio.